Volevo farvi uno scherzo. Siccome abbiamo detto che il film è del... Non mi guardare così con cattive... Perché... Il film è nel 77. Tu ti ricordi com'eri a 12 anni? Nel 77 avevi 13 anni. Ti ricordi com'eri quando avevi 12 anni? Sì, certo. Possiamo vedere una cosa quando tu avevi 12 anni? Che abbiamo trovato? Yes. Sì. Siamo Ottavia. Guardiamo Russell Crowe a 12 anni. Buongiorno. Russell, is your mother here with you? No. Where is she? Is my dad? And where is your dad? Where is every night? In the pub. And where did you say that pain was, Russell? Young doctor? Scusa, Russell, vuoi vedere lui a 12 anni? No, no, non abbiamo tempo. Ma ballavi benissimo a 12 anni. Ballavi benissimo. You know, I did what I had to do. Sai, facevo quello che bisognava fare. Siamo in diretta. Guardiamo, guardiamo, Ryan. and then. Come gave me. Goodoul, huh? Sounds like, do much. Have you all got out? We're all over here. I have to say that. Devo dire una cosa, però decisamente adesso balla meglio. Mi spiace, ragazzi, scusate. Per fortuna non esiste nulla di mio a 12 anni, non avevano ancora inventato le cineprese. Allora, no, no, non c'è niente.